Alena Seredova è emozionatissima per il primo giorno di nido della sua Vivienne Charlotte. La showgirl 43enne ha postato gli scatti dolcissimi della bimba di un anno, nata dalla relazione con Alessandro Nasi. Lucca la moda e zainetta a forma di orsetto per la piccola che nel suo primo giorno è stata accompagnata da entrambi i genitori. Grazie per la visione!